Proprio da questa particolarità dell'archivio nasce il progetto Cuore di Carta, che è un progetto che è diviso in due parti. È stato intanto realizzato grazie al fondamentale contributo di Cari di Verona, oltre che con risorse proprie del Comune di Feltre, ma, dicevo, si svolge essenzialmente in due parti, una di restauro degli antichi materiali e un'altra di esposizione, di una mostra che fa parte della trilogia che avevamo iniziato questo inverno con il Sipario, proseguita con Dianora Marandino, e appunto con quest'ultima mostra che si chiamava appunto Fatti ad Arte, proprio perché riprendeva il tema della creazione dei materiali. Dicevo appunto, nella prima parte è stata quella del restauro, quindi grazie alla perissia in qualche modo della Abbazia di Praglia, che è il centro di restauro del libro, uno dei più importanti a livello nazionale, abbiamo restaurato ben 11 volumi, 11 volumi come quelli che vedete alle mie spalle, perché quegli 11 volumi erano quelli più antichi, diciamo, redati appena dopo l'incendio di Feltre, e si trattava degli estimi, quindi di fatto dei documenti creati a scopi fiscali che censivano un po' tutte le proprietà nel Feltrino, e quindi costituiscono una sorta di fotografia di quello che era il territorio del Feltrino immediatamente dopo l'incendio. La mostra invece parte proprio da questa tematica, nel senso che si è voluto andare a vedere come, attraverso i documenti d'archivio, quindi si tratta a tutti gli effetti di una mostra documentaria, si è voluto andare a vedere come la città ha reagito nell'immediato decennio successivo all'incendio, e questo l'abbiamo fatto partendo da un articolo che sul tema aveva scritto lo stesso Matteo Melchiorre, che è anche il curatore della mostra che andremo a vedere.